pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati continuiamo il nostro cammino nel vangelo secondo marco completando oggi il primo capitolo viene un lebroso da gesù che lo supplicava in ginocchio e gli diceva se vuoi puoi purificarmi partiamo dalla condizione del lebroso il lebroso al tempo di gesù viveva una vita tragica perché era escluso dalla città ed escluso dalla comunità credente infatti una persona che veniva definita malata di lebra era costretta ad uscire fuori dal centro abitato e viverne all'esterno lontano da tutto e da tutti addirittura se qualcuno si avvicinava doveva gridare impuro impuro spesso vestiti di bende di stracci con sonaglini rumorosi proprio per segnalare la presenza se qualcuno avesse toccato un lebroso sarebbe diventato a sua volta impuro infatti la domanda se ci fate caso e se vuoi puoi purificarmi nell'antico testamento non era una categoria morale cioè ho peccato o non ho peccato puro e impuro era più una categoria rituale cultuale spiego se una persona toccava fisicamente determinate cose ad esempio un morto un lebroso alcuni cibi diventava impura cosa vuol dire non adatta al culto era ritualmente esclusa dal rapporto con dio prima di entrare al tempio doveva lavarsi fare dei riti per tornare ad essere pura tenete conto che il lebroso non solo era escluso dalla città ma era escluso anche dalla comunità credente si pensava fosse stato punito da dio quindi una persona sola maledetta ed esclusa qui la particolarità dov'è che quest'uomo vada a gesù invece vada lui non gli sta lontano lo cerca e i verbi lo supplicava gli diceva sono al participio esprimono una insistenza una continuità nella sua domanda possiamo cogliere un'ambivalenza anzitutto una grande fiducia perché dice se vuoi puoi purificarmi tenete conto che era chiara la consapevolezza che solo dio potesse guarire dalla lebra e qui l'ebroso non dice gesù se lo chiedi a dio se lui vuole può purificarmi dice se tu vuoi puoi purificarmi quindi da una parte una grande fiducia però dall'altra parte nasconde anche un dubbio un quesito un un'incertezza nel senso se vuoi cioè il punto è ma gesù vuole o no potremmo dire cela tante nostre tentazioni cioè ma gesù mi ha a cuore oppure no cioè dio vuole la mia purificazione vuole la mia liberazione vuole che io viva una vita piena sì o no in fondo provando un po a metterci nei panni di questo lebroso possiamo vedere in lui tutte quelle nostre malattie interiori che ci isolano in un modo o in un altro dagli altri quante volte anche noi portiamo dei vuoti profondi nel cuore no quante volte questi vuoti hanno una radice nella convinzione di non essere amabili vuoi per disattenzioni vissute nell'infanzia o parole accusatorie forti che abbiamo ricevuto sei un buona nulla non sei buona sei cattivo e via dicendo vuoi che siamo cresciuti con una competizione con fratelli e sorelle e dovevamo sempre lemosinare amore o ci sentivamo sempre gli ultimi mai bravi abbastanza siamo cresciuti con una sottile menzogna nel cuore che non meritiamo la cura degli altri e in fondo di dio stesso e così alcuni magari sono diventati diffidenti vendicativi altri cercano di sforzarsi e di fare tutto bene per meritarsi qualcosa altri elemosinano attenzione o amore qui e lì perché gesù dovrebbe in fondo volere la mia purificazione chi sono io per chiederglielo perché dovrebbe prendersi cura proprio di me qui c'è un punto serio no anche uno snodo esistenziale per la nostra vita ed è proprio l'agire e il parlare di gesù che lo risolvono perché noi abbiamo bisogno di incontrare qualcuno che ci restituisca il nostro valore persone che ci facciano sentire voluti bene degni di fiducia di amore ma questo alla sua radice è solo l'incontro con dio che lo può attuare nella nostra vita e non basta un secondo miei cari dobbiamo far nostra davvero la sua parola le sue azioni lasciarci convincere profondamente del suo amore per noi infatti gesù cosa dice subito dopo innanzitutto ne ebbe compassione da qui si muove la salvezza dalla compassione di dio per noi la compassione è un sentimento interiore che ti porta a sentire il dolore dell'altro è un'azione esteriore che ti porta ad agire in favore dell'altro qui è il motore dell'agire di dio la sua compassione per noi tese la mano e lo toccò qui c'è un di più grandissimo vi dicevo secondo la legge rituale non si poteva toccare un lebroso gesù va oltre queste regole umane questo tendere la mano toccarlo non è il rito di un santone di un mago è il far sentire all'altro vicinanza affetto contatto comunione così ha fatto nel suo farsi uomo così continua a fare il signore che per mezzo dei sacramenti ci tocca in modo concreto tangibile e infine dice lo voglio si purificato cioè io voglio la tua purificazione voglio che tu viva relazioni piene voglio che tu sia un uomo una donna libero voglio che tu ti senta amato in fondo questo lo voglio risponde a tutti quei dubbi o pensieri che potevano essere anche nella mente dell'ebroso cioè ma io merito qualcosa ma dio vuole la mia felicità vuole la mia salvezza vuole il mio vero bene la risposta è lo voglio convincerci che la volontà di dio è il meglio per noi è una cosa meravigliosa tante volte la gente parla di volontà di dio come sinonimo delle tragedie che gli capitano ti capita una sventura è volontà di dio cioè inconsciamente associamo la volontà di dio a tutti i disastri possibili immaginabili che dobbiamo supinamente accettare no la volontà di dio è il nostro meglio è la nostra salvezza se permette che attraversiamo momenti dolorosi e sempre per un bene più grande torniamo al testo la lebra subito scomparve ed egli fu purificato istantaneamente a efficacia la parola di gesù dopo ci stupisce perché gesù lo ammonisce severamente lo cacciò via gli disse guarda di non dire niente a nessuno gesù non vuole passare per un santone o uno che trasgredisce le leggi del tempo così tanto per fare il rivoluzionario o il figlio dei fiori no allora lo mette in guardia non dire niente a nessuno ma vai a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che mose ha prescritto come testimonianza per loro il lebroso quando guariva doveva ripresentarsi al tempio i sacerdoti verificavano la guarigione lo reintegravano nella comunità quindi gesù sta dicendo non andare in giro a raccontare a tutti il fatto a modo tuo entra nell'obbedienza alla legge vai offri quello che devi che è prescritto in questo modo vieni reintegrato nella comunità e questo servirà testimonianza per loro perché potranno capire ma tu guarda noi possiamo dire se questo è guarito o no ma questo gesù l'ha guarito e gli ha detto di fare tutto ciò che la legge prescrive cosa fa il lebroso l'esatto opposto sicuramente pieno di gioia di entusiasmo va e divulga il fatto vedete qui ci è segnalata anche l'importanza dell'obbedienza cioè una volta che iniziamo a seguire gesù è importante che ci lasciamo guidare dalla parola di gesù e dalla chiesa è possibile guarire sperimentare grazie e non cambiare continuare a camminare su sentieri storti purtroppo sì la generosità di dio è grande quante grazie e doni ci elargisce poi sta a noi entrare in un cammino di obbedienza che ci porti a sbocciare sempre più a crescere sempre più è bellissimo perché qui gesù vuole il meglio per questa persona vuole che sia reintegrata in pienezza nella comunità questa persona purtroppo non lo fa e che succede che ora è gesù che non può entrare nelle città ha fatto la fine dell'ebroso e la gente accorreva a lui in conclusione miei cari vogliamo chiedere due cose al signore la prima che ci aiuti a convincerci del suo amore per noi del nostro essere amati e amabili del sapere che apparteniamo a lui e che in lui tutto trova senso secondo che il signore ci aiuti a far nostri i suoi sentimenti e il suo modo di agire verso gli altri anche oggi tanti sono malati di lebra e non solo nella carne tante sono le persone lebrose da tenere a distanza persone ammalate con dipendenze con schiavitù di ogni sorta stranieri immigrati persone che per noi rappresentano chissà un pericolo la compassione di Gesù e il suo prendere contatto con il lebroso smuove i nostri cuori perché possiamo essere canali dell'amore di dio a volte le persone diventate lebrose possono essere i nostri stessi familiari ai quali non riserviamo il calore di un abbraccio la tenerezza di una carezza la consolazione di una parola carica di amore di speranza che il signore ci aiuti a riscoprire il valore dei piccoli gesti verso tutti specie verso gli ultimi verso gli esclusi si racconta che un sacerdote trovò nella sacristia della chiesa alla quale era stato destinato un antico crocifisso del 1600 enorme ma rotto senza braccia ripararlo era molto difficile allora scelse di appenderlo comunque sotto affisse una scritta ora le mie braccia siete voi che il signore ci aiuti a ricordare che in quanto cristiani sulla terra siamo noi le sue braccia le sue labbra le sue mani perché attraverso di noi possano sentirsi amati da lui e aprire il cuore a lui che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti